E di cosa sei più veloce di me? Lui è una scheggia! Bravo! Dritto in fondo! Bravissimo! Prego accoprati! Dai che è una bella giornata oggi eh! Se sta bene! Ti ha fatto arrabbiare tu nipote? Con l'amore di Dio! Andare a sbattere anche su... Perché vuoi si arriva io apposta! Va troppo piano! Ah! Eh? Oggi c'è la macchina mia! Ah allora mi spugnetta! Ah più vicino! Dove stiamo? Vedi dove portare? Buongiorno! Buongiorno ragazzi! Che tocca controllare? Niente! Non ho contattato le cose con i figli! No! Vuoi vedere che... Ah mannaggia! Eh! Che pazienza che ci vuole! Eh? Ma io! Che peccato ho fatto per scontare! Niente! Che ho fatto per scontare tutti questi peccati! Niente che vi vuole bene! Vi vuole bene! Dai! Allora! Ma vabbè ma non sta distante sta bene! Non è vero dai! Eh eh! Perché è stata lontano! Avete la bocca! Favere se c'è! Sì! E' il fotografo! Mi serve per il tecnico! Il tecnico mi ha chiesto un po' di foto! Per vedere bene com'era la situazione! Eh! Devi vedere bene! Quindi mettete bene con la testa! Sta fermo! Tu sta con la testa! Eh! Bravo! Così! No! Testa in alto! Che devi vedere tutto anche sotto quanto il barbicchio! Allora! Allora! Vediamo un po'! Adesso organizziamo subito per prendere impronte! Così dico! Facciamo l'uomo! Un po' di tempo fa vi si era rotta sta parecchiettino! Sì! Voi l'avete fatto riparare! Ma l'ha riparato! Ma ne questi sopra! Secondo me! Tu adesso sta fermo! Questi sopra! Che buono! Si è rotta! Sopra! E sta fermo! Ma la retta! Te lo stavano consiglio! Fali più a punta sopra! Così sembra un po' più drapola! E' un buon drapola no? Guardami! Ma come così lì sta? Che pacezza! Che pacezza! Fai vedere come se ce li ha punti o no! Oh! Fammi vedere! Io vorrei sapere mamma da quanto ha fatto! Da quel pensava! Favo il fatto ma tre scusi! Eh! Che ne so! Tu mi vedete che pensava! Ma ne so! Io lo mando a tante volte! Mi risponde! Io sai che farei? Adesso! Ti prendo l'improntina! Ti controllo per bene! Ok! Per farti stare un pochino meglio! Più fermo all'apparecchiettino! Che ti piace il prosciutto? Che ti piace a te? Stringi qua! Questa sopra! Questa sopra! Ma questa più guarda che quella sotto che è letta! Ok! E sta fermo! No! Ah! Adesso hai presa di me! Non è che mi piace tanto! Io ti lascio con lui un attimo! Ora fai la telefonata! Arrivo! Ti lascio con lui eh! Come reagirà al controllo del Dottor Cavatori! Adesso andrò a visitare un paziente speciale! Vediamo! Assolutamente! Io mi vedete! Va bene! Bravissimo! Così adesso il tecnico me la ricostruisce per bene tutta quanta! Adesso il sopra già l'ho preso! Adesso chiamo il tecnico e controlliamo per bene tutto quanto! Arrivo subito! Maurizio! Oh! Vieni un attimo! Arrivo! Vorrei controllare questo ragazzo! Ok? Eccolo qua! Abba! Chiudo! Abba! 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 Chiudo! Bravissimo! Abba! 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 Vado un po'! dentro c'è la lingua bene bene si, regge, regge molto molto bene mettendoci sotto che sentirei si va bene la faccia aprire dottore apri il secondo bravo, bravo, bravo esatto apri ahahahahah che coglione testa eri tu dottore il tecnico? ero io il tecnico io non ho detto io il tecnico ma basta di studi ma scusa eh ma non sei contento ma ciò di coglione no dai una spazzolatina metti un po' le panna dai fermate mi ha sporcatto ma non mi ha già sbattato eh oh era buona almeno? non mi ha sporcatto ah viene il canotto è sporcatto guarda vedi la telecamera saluta ciao ciao guarda saluta meglio 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 vabbè 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 vabbè